Sosta e funzionamento delle telecamere che controllano i varchi saranno regolamentati, ma i bus non torneranno in centro. La prima riunione del tavolo permanente tra comune e commercianti terramani stempera le polemiche dei giorni scorsi e getta le basi di un confronto a tutto campo. All'incontro hanno partecipato i rappresentanti delle associazioni di categoria, il sindaco Maurizio Brucchi e l'assessore al commercio Marco Tancredi. Abbiamo su loro richiesta rimodulato le modalità di accesso su via Capuani. Adesso, vorrei ricordarlo anche ai cittadini, si può accedere fino alle 14, ci saranno 20 stalli a tempo, in questo momento sono disegnati con le linee bianche, ma saranno blu fra poco. Sono stalli a 30 minuti, poi il pomeriggio sarà ZTL come in questo momento, quindi con il varco attivo. La sera invece sarà Isola Pedonale, cercheremo di conciliare anche con i residenti che ci chiedono degli stalli dedicati a loro. Il sindaco ha fatto un incontro con la prefettura per il discorso degli ambulanti abusivi, per il discorso dell'abusivismo, e quindi lì faremo una stretta sull'abusivismo, rifaremo la rotonda di Piazza San Francesco e ci saranno dei nuovi stalli. Stiamo investendo 3 milioni e 800 mila euro sul rifacimento dei due corsi e quindi sull'arredo urbano. Soddisfazione per la disponibilità dell'amministrazione riscontrata durante l'incontro è stata espressa dal presidente comunale di Confesercenti, Giancarlo Darui. Erano 5 lunghissimi anni che lo attendevamo, è stato un incontro abbastanza positivo, abbiamo discusso dei problemi che noi avevamo posto all'amministrazione, che loro già conoscevano. Quello che ci ha sorpreso un pochettino è che dal momento in cui si doveva trattare anche di parcheggi e di piano urbano del traffico non era assente l'assessore di Giovan Giacomo. Però comunque sia la presenza sia del sindaco che dell'assessore al commercio, in quell'occasione bastavano. Abbiamo deciso di farlo ogni 15 giorni, adesso il prossimo incontro ci sarà il 6 di novembre con la speranza che in questo tavolo venga allargato anche ai residenti e al commercio anche delle zone limitrofe perché il nostro comunicato tante volte è passato anche per una questione solamente del centro storico, ma in realtà non è così perché lì si parla del commercio della città di Teramo. Grazie.